Popolari, scaduti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo da parte dei risparmiatori truffati. Oggi un sit in Venezia. Elisa Billato e Marco Madini. Noi risparmiatori abbiamo fatto il nostro compitino negli ultimi anni. C'è stata una norma, ci hanno chiesto di avere dei documenti e fare delle domande. Lo abbiamo fatto, abbiamo fatto il nostro compitino diligentemente. Oggi chiediamo al governo che faccia la sua parte. I termini per la presentazione delle domande al fondo di ristoro sono scaduti. Ora la paura è che si debba aspettare ancora. Un incontro in prefettura, a Venezia, per le associazioni del coordinamento. Noi credevamo un sit in per rinnovare l'attenzione nei confronti di migliaia di risparmiatori truffati. Credo che sia arrivato il momento in cui il governo, che aveva detto che aveva anche un tesoretto messo via apposta, dia i soldi a sta povera gente. Altrimenti non siamo più un popolo civile. Sono trascorsi ormai sei anni, da quel 2014, anno in cui sono andati in fumo i risparmi dei soci della Ex Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Da allora il dibattito è passato dalle aule della politica a quelle del tribunale, ma ancora, dicono i risparmiatori, i soldi non si sono visti. Finita la presentazione delle domande ci auguriamo che il governo non adotti la stessa tecnica adottata per la presentazione, per la liquidazione delle somme, perché siamo stufi di camminare dentro il fango. Stiamo parlando di una vicenda di anni in un momento estremamente critico, perché oggi la gente, il popolo veneto ed italiano, ha bisogno dei soldi, non delle promesse. Le promesse sì, sono una bella cosa, tante volte gonfiano il cuore, però con le promesse non si mangia. Una procedura veloce per...